gentili telespettatori buona giornata una volta finita l'emergenza salvini uscirà da questo governo però finita l'emergenza che cosa vuol dire qui l'emergenza non finisce mai c'è la terza ondata e poi c'è la quarta ormai credo che questa cosa non so se finirà probabilmente probabilmente no quindi fuori una volta finita l'emergenza è un po vaga come cosa ma secondo il quotidiano la repubblica il leader leghista vuole uscire dall'attuale maggioranza puntando al voto beh sì ormai giorgetti che dice sì no non usciamo draghi di qui draghi di là salvini potrebbe farlo anche per ripicca nel senso giorgetti stravede per draghi e dice che io non sono buono per fare il premier perché l'unico che c'è in questo momento in italia è draghi non è la prima volta che giorgetti lo dice se tu sei il numero due della lega e dici al numero uno che ci ha scritto nel nome del partito lega salvini premier gli vai a dire al a quello che ha fatto il partito che ha scritto salvini premier gli dici l'unico in questo momento che può governare l'italia che vedo che ha le caratteristiche per farlo è draghi non c'è nessun altro e quello dice ma e io non ci sono no tu per per giorgetti non sei buono per fare il capo di qualcosa va bene fare il politico ma non il capo di qualcosa quindi salvini potrebbe anche farlo per rivalsa come giorgetti dire adesso la lega esce dal governo lo decido io non lo decide giorgetti quindi le quello che dice il quotidiano la repubblica l'intenzione del leghista di uscire dall'attuale maggioranza puntando al voto è anche abbastanza reale a parte che non lo so se riuscirebbe a fermare la fuga dei voti degli elettori perché la fuga degli elettori parte da lontano la fuga degli elettori parte dal famoso papete del 2019 non è che gli elettori sono scappati perché entrato nel governo draghi no non è quello perché guardate il pd guardate il movimento 5 stelle guardate forza italia nessun partito ha perso voti per essere entrato nel governo draghi perché la lega li ha persi perché in realtà non è l'entrare nel governo draghi che ha fatto perdere voti e il comportamento di salvini che parte dal papete agosto 2019 fino ad oggi e tutto il suo modo di far politica che ha fatto andare via gli elettori non l'entrare nel governo draghi ma lui pensa che tutto sia questo che il problema ovviamente lui non si mette minimamente in discussione lui è il grande capitano condottiero del partito salvini premier dice basta uscire dal governo e gli elettori torneranno c'è da dire che uscendo dal governo lui non non farà più il salvini di lotta al salvini di governo farà solo il salvini di lotta cioè ci sarà i due salvini lotto e governo si sovrapporranno diventerà un salvini solo perlomeno perlomeno avrà una parvenza di credibilità se c'è una persona che dice la stessa cosa l'importante che quello che dirà il solo salvini non cominci ad essere di nuovo la mattina dice una cosa il pomeriggio un'altra insomma dovrebbe riuscire a mantenere una linea su quello che dice almeno per 15 giorni dire la stessa cosa ecco adesso 15 giorni così a caso ma la linea di salvini dice su alcuni temi puntiamo ai risultati dice taglio delle tasse referendum sulla giustizia e pensare agli ultimi e ai dimenticati dalla sinistra allora per quanto riguarda il taglio delle tasse il governo lo sta già facendo ma lui dice io voglio fare il taglio delle tasse per poi dire quando avviene il taglio delle tasse un merito della lega in realtà è il governo e principalmente draghi che ha detto ci sarà il taglio delle tasse per 8 miliardi quindi il cercare di aggiudicarsi come merito della lega il taglio delle tasse non è proprio corretto referendum sulla giustizia è già passato quindi bisognerà poi andare a votare perché una cosa è raccogliere le firme la cassazione dice va bene ma avendo raccolto le firme adesso c'è il referendum bisogna andare a votarlo pensare agli ultimi ai dimenticati dalla sinistra questa frase non ha non ha consistenza chi sono gli ultimi dimenticati dalla sinistra bisognerebbe essere un po più precisi insomma la lega da mesi sarà più partito di lotta che di governo vedremo se sarà più di lotta che di governo poi ci sarà il congresso della lega a metà dicembre che vorrebbe portare il partito verso un'identità più netta l'identità più netta come come fai ad avere un'identità netta se dici sì no forse su tutto dice qual è la linea della lega su questo argomento sì no forse e su quell'argomento e dipende dal giorno poi non mi sbilancio perché i salvini che dà la linea e qual è oggi non lo so dovrei andare a vedere le agenzie di stampa su quell'argomento se siamo ancora sul sì o ha cambiato al no su el forse capite che anche i politici della lega su ogni argomento dice ma tu cosa ne pensi qual è la linea del partito ma io ero rimasto ieri alle 4 del pomeriggio che salvini diceva sì oggi siamo già a mezzogiorno che ne so magari ha già detto un'altra cosa capite il problema che c'è anche tra i politici della lega secondo l'analisi del quotidiano la repubblica il divorzio della lega con il governo sarebbe all'orizzonte le possibili scadenze sono quelle del voto del quirinale che porterebbero al voto anticipato se l'attuale inquilino di palazzo chigi fosse disponibile a traslocare al quirinale o al massimo la fine naturale della legislatura nel 2023 anche sul fronte europeo prevale sembra essere la linea salvini resterebbe quindi accantonata l'idea del numero due giorgetti di entrare nel ppe quindi salvini va proprio dalla parte opposta giorgetti è per entrare nel ppe e salvini per scavalcare la destra i conservatori e fare un qualcosa di ancora più a destra di giorgia meloni però insomma se la destra originale quella di giorgia meloni tu vuoi fare l'ultra destra sapendo già che non sei di destra realmente ma un'imitazione della destra voler andare a fare un partito più a destra di meloni non so a che punto e poi nell'ottica di un governo futuro di centrodestra andare troppo a destra nell'estrema destra non è propriamente il massimo io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata